Siamo lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo. Ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare? Io vi benedica e la Santa Vergine che protegga. Laud entro di Gesù e Maria. Carissimi amici, siamo giunti alla trentunesima puntata del ciclo di catechesi dedicato a Maria di Magdala, con un capitolo che nel testo è intitolato Il suo credo vince le tenebre della negazione e il silenzio della morte. Un capitolo abbastanza medio, lungo, impegnativo, non lunghissimo però, ambientato ovviamente ricorderemo la volta scorsa che abbiamo lasciato Maria al Calvario ai piedi della croce o meglio abbiamo chiuso con Maria di Magdala che persuade la Madonna a lasciare il sepolcro. La Madonna fortemente, evidentemente addolorata per la perdita del Signore che ha fatto difficoltà ad allontanarsi dal sepolcro perché sarebbe voluta rimanere lì in attesa della riduzione del figlio. No, questo era il contesto in cui ci siamo lasciati le volte scorse. Ora proseguiamo, leggo anzitutto il breve paragrafetto, ecco, in corsivo introduttorio del capitolo e poi cominciamo con la lettura dei consueti dialoghi. Nella casa del Cenacolo, che è il rifugio delle donne con Giovanni, risuola lo struggente lamento della Vergine, confortata dal sorriso del suo volto, impresso nel lino con cui Nike l'ho asciugato sul Calvario. Questo era un virgolettato. Nike, come ho detto nelle puntate precedenti, è il vero nome della cosiddetta Veronica. Ma sono anche arrivate notizie tremende che fanno presagire rappresaglie e ogni sorta di pericoli mentre bisogna prepararsi per andare ad imbalsamare il corpo di Gesù quando sarà finito il sabato. Quindi abbiamo capito il contesto in cui ci troviamo. Non dimentichiamo che in realtà le donne che la mattina andarono a sepolcro, non c'era Maria di Nazareth, erano andate ad imbalsamare il corpo di Gesù perché non si poteva fare perché c'era di mezzo il sabato. Gesù è morto alle tre. Sapete che per gli ebrei noi abbiamo nella liturgia un fatto proprio questo uso. Il giorno comincia a cala del sole con i primi vespri. Quindi il sabato non comincia il sabato mattina ma comincia il venerdì sera ai primi vespri. Gesù è morto alle tre. Capite che ora che uno lo cala dalla croce, lo trasporta nel sepolcro, andiamo molto a ridosso dei primi vespri. Quindi lo hanno messo nel sepolcro, quindi avvolto nella sindone e messo nel sudario, ma senza i viti tipici della sepoltura ebraica perché non c'era il tempo per farlo, perché di sabato quelle cose non si potevano fare. Questo è il contesto di questo brano. Altro tempo passa, poi Marta dice, come faremo per gli unguenti? Domani è sabato e non potremo prendere nulla, dice Salome. E bisognerebbe farlo. Molte milibre di alo e mirra, ma era così mal lavato. Bisognerebbe avere pronto tutto per l'aurora del primo giorno dopo il sabato, osserva Maria d'Alfeo. E le guardie? Come faremo? chiede Susanna. Lo diremo a Giuseppe se non ci lasciano entrare, risponde Marta. Non potremo da noi spostare la pietra. Risponde la Maddalena. Oh, in cinque dici che non potrei? Siamo robuste tutte e tutte e l'amore fa il resto. E poi verrò io con voi, dice Giovanni. Tu no proprio, non voglio perdere anche te, figlio. Ma non ci pensare, basteremo noi. Ma intanto chi ci dà gli aromi? Restano tutte accasciate. Poi Marta dice, potevamo chiedere a Niche se era vero di Giovanna, delle sommosse. È vero, ma ebbe ti siamo. Potevamo allora prendere anche gli aromi. Isacco era sul suo uscio quando tornammo. In palazzo sono molti vasetti d'essenze e c'è incenso fino. Vado a prenderli. E Maria Maddalena si alza dal suo posto e si mette il manto. Marta grida, tu non andrai. Io andrò, risponde Maria di Magdara. Sei folle, ti prenderanno. Tua sorella ha ragione, non andare. Oh che inutili e urlanti femmine che siete. In vero che Gesù aveva una bella schiera di seguaci. Avete già esaurito la vostra riserva di coraggio? A me invece più ne uso e più me ne viene. perdonatemi questa risata. È uno dei passaggi in cui appare proprio la tempra e anche il fascino di questa donna. Il coraggio è sempre una bellissima virtù, credo. Affascina sempre, affascina tutti. e vederlo così vivo, in questo bel carattere forte, ruspante mi vorrebbe da dire. È bello. Ci vuole un pochino di coraggio figlioni miei cari, è un pochino. Certo, c'è differenza tra il coraggio e la temerarietà, da un punto di vista morale. Il confine è sempre labile. Sapete, già il buon Aristotele diceva che ogni virtù è il giusto mezzo tra i due estremi. Per questo che si dice anche in latino in medio stat virtù, no? Ora, il coraggio in particolare è il giusto mezzo tra la temerarietà e la pusi d'animità. La temerarietà è, come dire, un coraggio mal esercitato. Cioè, quindi, quando ci si espone a fare al pericolo, a un pericolo non proporzionato, e quindi si rischia di fare danni o di cadere. La pusi d'animità, evidentemente, lo conosciamo un po' meglio quando uno si refila, perché ha paura di subire qualche conseguenza dal suonare. Attenzione che avere chiaro questo concetto, perdonatemi che sempre la mia premura di pastore è sempre quella di dare un taglio catechetico, ma di questi tempi è importantissimo comprendere bene questa virtù, perché se è vero che adesso in giro ci sono una montagna di pusillanimi, sicuramente, di vidi, è anche vero però che ci sono da qualche parte alcuni che sono temerari o che hanno compiuto gesti di temerarietà inutili. semplicemente non andando a fare altro che mettendosi in un mare di guai, non hanno soltanto se stessi, mettere in un mare di guai anche chi in qualche modo li considera punti di riferimento. è difficile trovare l'equilibrio. Andrò io con lei, chiusa la parentesi, sono un uomo? Dice sempre San Giovanni. E io sono tua madre e te lo proibisco, dice Maria Salome, che era la mamma di Giovanni. Sta buona Maria Salome, sta buono Giovanni, vado sola, non ho paura. So cosa è girare di notte per le vie, l'ho fatto mille volte per il peccato e dovrei temere ora che vado per servire il figlio di Dio? Ma oggi la città è rivolta, hai sentito l'uomo? È un coniglio, e voi con lui, io vado, vedete, ancora continua, ad aumentare la dose, no? Bellissimo quello che dice anche. L'ho fatto mille volte per il peccato e dovrei temere ora che vado per servire il figlio di Dio. Vedete come paradossalmente in certi casi questo è il peraccidenza, direbbe San Tommaso, in un carattere così, quindi che, ricordate, il percorso, proprio il punto fondamentale che Gesù anche evidenzia in Madre di Magdala è che questa cambia, rimane lei, ma cambia semplicemente l'oggetto della sua attenzione. Cioè, ciò che prima, questo patrimonio anche come dire, umano, no? Cioè, è una bella persona, Madre di Magdala, ha un bel carattere, cioè, è affascinante sotto questo punto di vista. ed è proprio per questo che, volgendo queste sue doti, queste sue risorse, nel male, era stato quello che era. Cioè, per essere sfrontati bisogna essere coraggiosi, bisogna sfidare il cliché, avere appunto il coraggio di farsene dire un sacco di asporta, dietro. Anche chi sfida il cliché, il politicamente corretto, lo chiameremo oggi, per rimanere fedele alla verità, gliene diranno un sacco di asporta. È solo che, mentre il primo coraggio è un coraggio non virtuoso, quest'altro lo è. E se ti trovano i soldati, li obiettano. Dirò, sono la figlia di Teofilo, Siro, servo fedele di Cesare, e mi lasceranno andare. E poi, l'uomo davanti ad una donna giovane e bella è un trastullo, più innocuo di un filo di paglio. Lo so, per mia vergogna. Quindi, ancora, no? Sono figlia di Teofilo, Siro, servo fedele di Cesare. L'uomo, davanti ad una giovane donna, giovane e bella, è un trastullo, più innocuo di un filo di paglio. Lo so, per mio, il buono. Ma dove puoi trovare profumi in palazzo se esso è disabitato da anni? Lo credi? Oh, Marta, ricordi che Israele vi obbligò a lasciarlo perché era uno dei miei luoghi di ritrovo con gli amanti? In esso io avevo tutto quanto serviva a farli più folli ancora di me. Quando fui salvata dal mio Salvatore, io ho nascosto, in un luogo, noto a me sola, gli alabastri e gli incensi che usavo per le mie orge d'amore. ed ho giurato che unicamente il pianto sul mio peccato e l'adorazione di Gesù Santissimo sarebbero state le acque profumate e gli ardenti incensi di Maria pentita. E di quei segni di un culto profano del senso e della carne ne avrei solo usato per santificarli su di Lui e dargli un sion. Ora è l'ora. Vado, restate e tranquille. Con me viene l'angelo di Dio e nulla di male mi accadrà. Addio, vi porterò notizie. E a lei, con la L maiuscola, c'è la Madonna, non dite nulla, le aumentereste l'affanno. Anche qui vedete la bellezza di Maria di Magdala. Non teme di di nuovo riconfessare in maniera anche abbastanza esplicita e un po' forte i suoi peccati. Parla di orge d'amore. E poi vedete la potenza della sua conversione. Ho giurato che d'orennanzi le acque profumate e gli ardenti incensi di Maria pentita sarebbero state solo il pianto sul mio peccato e l'adorazione di Gesù Santissimo. Quindi vedete acque profumate le lacrime. Incenso, incenso è il simbolo della divinità, adorare Gesù Santissimo. E guardate che Maria di Magda non ha mica scherzato. Noi ci avviamo verso la conclusione e sono sicuro che quest'opera termina con la visione della morte di Maria di Magdala non l'anticipo perché per chi non la conosce sarà forte, sconvolgente. Cioè, lei non è che era scherzato, lei è passata una vita a piangere i suoi peccati. e di quei segni di un culto profano del senso della carne ne avrei usato solo per santificarli su lui e dare unzione. Quindi vediamo anche l'origine di quel vasetto di alabastro molto profumato di nardo rarissimo che ha spaccato, l'abbiamo già visto in questo episodio qualche giorno prima della passione della morte di Gesù, no? Fedele al suo giuramento. Questi non si toccano più se non per santificarli su di lui e dargli unzione. E Maria di Magdala esce sicura, imponente. Madre, questo ti insegni e ti dica non fare che il mondo dica che tuo figlio è un vile. Domani, anzi oggi, perché già è data la seconda vigilia, io andrò cercando i compagni come ella vuole. È sabato, non puoi, ha parlato San Giovanni ovviamente, obietta Salome per trattenerlo. Il sabato è morto, dico io pure con Giuseppe. L'era nuova è iniziata, altre leggi, altri sacrifici e cerimonie in essa. In realtà San Giovanni dice il vero, perché non ha certo San Tommaso d'Aquino che commentando la Sacra Scrittura dice che quando è che è finito l'Antico Testamento? Abbiamo una spia abbastanza facile, quando Gesù dice questo è il carice del mio sangue versato per voi e per molti per la nuova ed eterna alleanza. Quindi nel momento in cui entra in vigore la nuova ed eterna alleanza è chiaro che l'Antica viene abrogata, non c'è più. Quindi il sabato non c'è più. Però vedete l'Aquila San Giovanni? Come ci è arrivato subito? eppure ce l'ha arrivato subito pure San Giuseppe d'Arimatea qui è. San Giuseppe d'Arimatea è un altro bellissimo personaggio, si era stato discepolo di nascosto, non aveva provato insieme con Nicodemo ovviamente la decisione del Sinedrio e poi è diventato coraggioso al momento della morte di Gesù. Ok. Maria Salome chiina la testa sui ginocchi e piange senza più protestare. Oh, poter sapere di Lazzaro già è Maria di Cleofa. Questa Maria di Cleofa è la madre invece della cognata di Maria ed era la madre degli apostoli San Giuda e San Giacomo. ovviamente Giacomo Minore Giacomo D'Alfeo da distinguersi da Giacomo Maggiore che Giacomo di Zebedeo è il fratello di San Giovanni il primo degli apostoli a essere martirizzato nel gruppo apostolico. Se mi lasciate andare lo saprete perché i compagni Simone Canoneone ha avuto l'ordine sono stati condotti da lui da Lazzaro. Gesù lo disse mi è presente a Simone. Oimè tutti là ha allora tutti perduti. Maria, Cleofa e Salome piangono desolate. Passa altro tempo fra pianti attese poi torna Maria Maddalena trionfante carica di borse piene di vasette preziosi. Vedete che nulla è accaduta? Ecco qui oli di ogni genere e nardo e olibano e benzoino. Non c'è la mirra e l'aloe non volevo amarezze io le bevo tutte ora. Ma intanto intiteremo queste domani prenderemo o pagando Isacco darà anche di sabato. Prenderemo mirra e aloe. Ti hanno vista? Nessuno non c'è in giro neppure un pipistello. I soldati? I soldati io credo che russino nei loro giacigli. Ma le sedizioni gli arresti li ha visti la paura di quell'uomo? Chi è nel palazzo? ma levi la moglie tranquilli come parcoli gli armati sono fuggiti. Ah bei prodi abbiamo per mia fede sono fuggiti appena seppero della condanna. Dico il vero Roma è dura e usa il fragello ma con questo si fa temere servire ed ha uomini non conigli. Oh sì egli diceva i miei seguaci conosceranno la mia stessa sorte. Se molti romani verranno di Gesù ciò può essere ma se deve avere martiri fra gli israeliti resterà solo. Ecco solo questo è il mio sacco e questo è di Giovanna che sì non sono vili ma mentitori non solo vili ma mentitori siamo. Giovanna non è che è accasciata lei ed Elisa si sono sentite male sul Golgotha una è una madre che ebbe morto il figlio e sentire i rantori di Gesù la poterò stare molto male l'altra è delicata non usa tanto cammino e tanto sole ma niente ferite niente agonie piange come noi certo non di più si rammarica di essere stata condotta via domani verrà e manda questi aromi quelli che aveva con lei era rimasta Valeria per ordine di Plautina ed ora se n'è andata con gli schiavi alla casa di Claudia perché loro hanno molti incensi quando verrà perché anche lei per grazia del cielo non è una lepre sempre tremante non mettetevi a urlare come sentiste il gladio alla gola su alzatevi prendiamo dei mortai lavoriamo piangere non giova o almeno piangete e lavorate sarà stemperato dal pianto il vostro balsamo ed egli lo sentirà su di lui sentirà l'amore nostro e si morde le labbra per non piangere e per dare forza alle altre veramente disfatte altra piccola sosta è vedete anche la modalità anche un po' forte diretta di parlare di Maria di Magda proprio dei caratteri forti che quindi mal sopportano la viltà e anche la menzogna due bruttissime cose qui lei fa l'elogio di Roma Roma è dura usa il flagello ma con questo si fa temere e servire e da uomini non conigli e poi diceva ancora oh sì e gli diceva i miei seguaci conosceranno la mia stessa sottice se molti romani diventeranno cristiani ciò può essere perché i veri sono uomini ma se deve avere martiri dagli israeliti resterà solo quindi la sua persuasione la sua convinzione che i suoi e in effetti purtroppo era sotto gli occhi di tutti avevano dato una bellissima attestazione bellissima si fa per dire ovviamente una attestazione ironica diviltà dove stavano gli apostoli e guardate attenzione l'aviltà degli apostoli è un peccato non fa niente che Gesù sapeva ha predetto il rinegamento di Pietro queste sono le persone che dicono ma se lui conosce il futuro guardate che Pietro ha commesso un peccato mortale gravissimo non è che siccome Gesù gliel'aveva predetto ah vabbè ma gliel'aveva predetto quindi quindi cosa e pensate addirittura cioè vedete che che Pietro in forza della porra se l'ha pure scordato se l'ha ricordato dopo ex post dopo che l'aveva fatto e dopo ha pianto amaramente incrociando anche lo sguardo di Gesù ma sempre vile è stato purtroppo in quell'occasione bella Maria di Magdala ok lavorano con Lena Maria chiama Giovanni madre che hai questi colpi ma tritano gli incensi ah ma perdonate arrivata la Madonna non fate quel rumore mi sembrano i martelli infatti i pestelli di bronzo contro il marmo dei mortai fanno proprio come un rumore di martelli Giovanni lo dice alle donne e queste escono nel cortile per essere udite di meno Giovanna Giovanni scusate torna dalla madre come li hanno avuti è andata Maria di Lazzaro a casa sua e da Giovanna e anche altri ne verranno portati non è venuto nessuno nessuno dopo Nike ma guardalo Giovanni com'è bello anche in quel suo dolore Maria si assorbe a mani giunte contro il telo che ha steso contro un cofano tenendolo fermo con dei pesi bello si madre e ti sorride non piangere più già qualche ora è passata meno da attendere il suo ritorno e intanto Giovanni piange Maria lo accarezza sulla cota ma guarda solo le figie del figlio Giovanni esce ascecato dal pianto anche la maddalena che è tornata a prendere delle anfore è nelle stesse condizioni ma dice all'apostolo non bisogna farsi vedere piangere perché se no quelle là non sanno più fare nulla e fare si deve e credere si deve termina Giovanni sì credere risponde subito Maria se non si potesse credere sarebbe la disperazione io credo e tu io pure lo dici male dice madre di là che non dava San Giovanni e non ami ancora abbastanza se amassi con tutto te stesso non potresti non credere l'amore è luce e voce anche contro le tenebre della negazione e il silenzio della morte dice io credo è splendida la maddalena così alta imponente imperiosa nella sua confessione di fede deve avere il cuore torturato e i suoi occhi bruciati di pianto lo dicono ma l'animo è invito Giovanni la guarda mirato e mormora tu sei forte sempre lo fui tanto che seppi sfidare il mondo ed ero senza Dio allora no sentite che cosa dice ora che a lui sento di sapere sfidare anche l'inferno tu che sei buono non dovresti essere che più forte di me perché la colpa delle prime sai più di una consunzione ma tu sei innocente per questo ti amava tanto anche te amavo Pietta Giovanni ma io non ero innocente ero una sua conquista ecco questa è una frase anche questa veramente stupenda bellissima meravigliosa questo è un passaggio finisce il capitolo quindi noi ci fermiamo oggi è una puntata un po' più breve perché il capitolo seguente sarà poi molto molto lungo e ci fermiamo io credo e tu io pure lo dici male ma voi sapete che quando noi diciamo il credo guardate il credo anche il simbolo apostolico è una preghiera è una preghiera importantissima il credo ma si pronuncia ma con con una fierezza che se si potesse dire con orgoglio dovremmo dire con orgoglio e con convinzione credo anche durante la santa messa si pronuncia stando in piedi a testa alta sapete che nella liturgia delle ore antica stupendo proprio e prima delle ore canoniche c'erano sempre delle preghiere da fare generalmente il padre nostro l'allia maria e poi la formula di introduzione a recitare il breviario con attenzione con devozione eccetera ma questo vale per le versioni antecedenti al 62 audite audite la prima preghiera liturgica della chiesa cioè il mattutino quello che si dice a mezzanotte quindi quello che dà il la si dice il padre nostro il padre maria e il credo l'ultima preghiera della giornata prima che inizi il mattutino invece nell'ultima preghiera della giornata che è compieta dopo che è compieta e terminata si dice il padre nostro l'ave maria e il credo il credo quindi almeno due volte al giorno te lo sei detto nelle preghiere del mattino e della sera c'è il credo va bene anche il simbolo apostolico o il simbolo di mi dice ma quello bisogna dirlo sapete che ogni volta che noi decidiamo il credo che ha una grande professione di fede aumenta oggettivamente la nostra fede aumenta noi lo diciamo male lo diciamo anzitutto il credo siamo convinti di ogni singola sillaba del credo cioè che è tutto straverissimo ma soprattutto camminiamo a testa alta ma la vogliamo finire vedete vedete qui ma è di magdala adesso mi comincio a codare un po' io i conigli i pusillanimi i vili parliamo di scelte adesso arriva l'estate che facciamo al mare figlioli miei dai maschi e femmine che facciamo andiamo conformi alle mode del mondo attuale e perché se poi c'è pensiamo parliamo ogni tanto degli ometti no un uomo che sta in costume col costumino sta in mutande no non è che c'è tanta differenza cioè mutande con una stoffa un po' differente tutto tranquillo un figlio di dio va bene che un figlio di dio si faccia vedere così in pubblico io faccio soltanto domande e se non andasse bene che facciamo io sono un figlio di dio io credo in dio padre onnipotente creatore del cielo della terra in gesù cristo eccetera eccetera magari mi metterò un paio di pantaloncini magari mi metterò una magliettina addosso magari dentro l'acqua no ma fuori dell'acqua e ma poi che cosa dicono mi prendono in giro il problema grande è questo qui che oggi la società si è corrotta perché un tempo queste cose erano normali oggi il dramma il dramma è che allora la verità diciamo che è rimasta sempre qui ora lo faccio vedere nel video il problema è che adesso la società è scesa in basso sta qui e ritiene che qui sia stare normale quindi o tu rimani alto o scendi in basso ma se rimani alto sei notato e sei deriso clamorosamente perché gesti con tempo erano normali oggi sono scandalosi al contrario oggi a messa c'era un bellissimo Vangelo la versione in cui Gesù fa subito uno switch passa dallo scandalizzare i piccoli gli altri allo scandalizzare se stessi se la tua mano ti scandalizza se il tuo piede ti scandalizza se il tuo occhio ti scandalizza non scandalizza gli altri taglialo taglialo cavalo lo vedete Maria di Magdala io ho scandalizzato mezzo mondo e adesso c'è paura adesso scandalizziamo i cattivi ok facciamo la stessa cosa siamo capaci a fare i santi scandali i santi scandali scandalizziamo sto ovviamente usando un linguaggio provocatorio apposta no e scusa avete visto in certe trasmissioni canore che cosa ci hanno il coraggio da fare adesso ricominceremo no col mese di giugno ricominceremo con i pubblici scandali a cielo aperto a tutti i zitti che nessuno dice una parola siamo capaci di scandalizzare in un altro senso ce l'abbiamo gli attributi o siamo una banda di bili e conigli cioè che piegano la testa dinanzi a chi non c'ha la fede e non ci crede farsi il signore della croce in pubblico farsi il signore della croce davanti a una chiesa vado sto a mangiare fuori io mi alzo in piedi e faccio il signore della croce non mi metto seduto mi alzo in piedi faccio la preghiera in piedi e quando mi alzo faccio l'agito di un stivi grazie mi vedo e mi guardano tutti e allora si devono vergognare tutti quelli che non le fanno queste cose qui i segni esterni io per questo che ci insisto tanto sui segni esterni perché i segni esterni sono le provocazioni le provocazioni sono quelle cose che restano una persona che sta al ristorante che te vede un figlio di Dio che prima dà una pranzo si fa assieme della croce sicuramente ride dice ah questo è proprio fuori da testa ma quella cosa non se la scorderà mai più e gli tornerà dentro come un tarlo come una cosa dice ma questo che fa che si deve fare la preghiera prima che uno mangia se non la vede quella cosa lì non se la farà mai qualche qualche domanda però per per dare scandali santi bisogna averci gli attributi non si può essere conigli ovili se io capisco che una cosa è vera o è importante quella cosa la faccio e chi se ne importa di quello che succede o di quello che pensano mi gioco la carriera e allora e allora voi pensate che non si paghi oggi come dire fare il sacerdote in un certo modo vi assicuro che si paga e che molti non 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 lo fanno per paura delle conseguenze solo portare la veste talare oggi in certi contesti significa la morte ecclesiale ok se tu fai questa cosa qui tu non avrai nessun tipo di incarico ecclesiale chiaro degli scordi propri tutti se non hai nessun tipo di incarico ecclesiale non diventerai mai vicario foraneo vicario giudiziale vicario generale vescovo perché non 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 si non si fa carriera da nulla io certamente non diventerò mai nessuno tutti in carichi ecclesiali oggi sono zero ok parroco prima di una parrocchia un pochino più significativa ora della parrocchia più piccola della diocesi io sono felicissimo sono felicissimo ma non sono stupido spero insomma un po' si un po' ingenuo pure non sono stupido e allora che facciamo per timore delle conseguenze per timore di di perdere qualcosa uno rinuncia a dire la verità a predicare il Vangelo di sempre bisognerebbe fare così oppure ad addolcirlo ad annacquarlo un po' perché no se dico questa cosa in quel modo dopo qualcuno si urta i famosi politicamente corretti questo è un tempo in cui dovevano uscire fuori un po' di leoni e un po' di leonesse Maria di Magdala certamente è una leonessa in grande stile e attenzione lo dici male non ami ancora abbastanza quando una persona è innamorata ma sai a me che me ne importa se io sono innamorato io devo piacere a colui che amo non devo piacere al mondo non devo piacere agli amici non devo piacere ai familiari non devo piacere al vescovo ovviamente in un certo senso bisogna custodire la comunione per carità gerarchica l'obbedienza la liberenza il rispetto il vescovo non approva il mio stile pastorale se non approva lo stile pastorale ma questo stile pastorale ha una sua giustificazione come dire in ordine alla necessità di difendere diffondere la verità la sana dottrina pazienza me lo tengo con tutte quante le conseguenze che vengono da questo quindi al mare come ci andiamo se stile ognuno di noi deve mettersi davanti allo specchio della propria coscienza e in giro come ci andiamo punto interrogativo sapete che il nostro che il nostro abito parla molto lo raccontavo tante volte sapete che c'era se ci fu una volta un padre della chiesa non mi ricordo chi è non vorrei non so se mi viene in mente San Giovanni Crisostomo o San Gregorio di Nazianzo San Gregorio di Nazianzo tanto per capire chi è San Gregorio di Nazianzo c'è una conferenza che faceva un signor Schneider durante un corso dei versi spirituali è uno dei campioni del concilio di Costantinopoli chiaro? ora ci sono due leoni per quei due concili Sant'Atanasio è il leone del concilio di Nicea San Gregorio di Nazianzo è il leone del concilio di Costantinopoli solo che Sant'Atanasio si è impuntato e al concilio di Nicea hanno detto che il figlio è della stessa sostanza del padre Homo husios si dice in greco famoso Homo husios solo che dello spirito santo perché il concilio di Costantinopoli è stato indetto perché dopo che stavano a rompere le scatole al figlio che non era uguale al padre c'erano i cosiddetti pneumatomachi in greco pneumatomachi significa spirito makia significa battaglia quindi quelli che combattono lo spirito santo che dicevano che lo spirito santo non è della stessa sostanza del padre e del figlio che cosa hanno detto nel concilio di Costantinopoli credo nello spirito santo che è signore e dà la vita e procede dal padre e dal figlio e con il padre e il figlio è adorato e glorificato quindi hanno detto che è Dio no? Signore Signore significa Kyrios in greco quindi Yahweh in ebraico credo lo spirito santo che è signore dà la vita dà la vita è la proprietà della divinità procede dal padre e dal figlio quindi è la terza persona dell'antissima e con il padre il figlio è adorato l'adorazione è dovuta a Dio e glorificato ma a San Gregorio di Nazianza non è nata bene ha detto no dobbiamo dire che è della stessa sostanza del padre e del figlio hanno detto hanno detto di no e se era nata la madre se era nata no dobbiamo dirla bene e se era nata era così ci ha raccontato Mazzino Schneider io quindi declino le responsabilità me lo ricordo perché io conoscevo San Gregorio di Nazianzo è un mostro da un punto di vista teologico grande amico di San Basilio Magno erano due corpi cioè un animo in due corpi si definivano uno con l'altro due San Gregorio di Nazianzo detto il teologo quindi era uno che proprio sapeva quello che diceva ma era un combattente era lo spante era un santo guerriero di Cristo siamo capaci noi di fronteggiare tutti quanti gli scandali a go go perché a scandalizzarci certamente che siamo tutti i breschi a scandalizzarci siamo però pronti a fare gli scandali al contrario ma in chiesa prendono tutti la comunione in mano come faccio ad andare a prendere la comunione in ginocchio e in bocca perché ha maggior ragione ha maggior ragione cioè questi sono così sfrontati immaginate i primi che prendevano la comunione in mano che sfrontati che erano adesso che hanno vinto e tu che fai te intimidisci ha maggior ragione so solo io ma che bello che so solo io bellissimo così puoi dare un buon esempio il cristianesimo si è imposto così figlioli i miei cari il cristianesimo ricordate i libri di storia io me lo ricordo bene quali sono le cause della caduta dell'impero romano speriamo che mi ricordo tutte e tre uno le invasioni barbariche due la corruzione dilagante nell'impero ma tre ricordate i libri di storia il cristianesimo è stata la causa della caduta dell'impero romano una delle tre con cause perché perché ha portato uno stile di vita che ha eroso i padrimoni del paganesimo quelli erano una banda dei zozzoni e dei impudici ma la purezza e la pudicizia che hanno portato i cristiani e la castità ma non abbiamo idea di che cosa fosse le cristiane dei primi secoli adesso immagino le battute i commenti burca ma andavano in giro che c'erano scoperte le mani e forse i polsi fine il resto era mistero e non pensiate dice beh allora non l'ha fatto così abbiamo visto come andava in giro Maria di Magdala non è che non erano buoni andavano in giro nudi allora anzi i pagani erano grandi maestri su questo qua il cristianesimo con venti secoli era riuscito a come dire a soppiantare i costumi pagani hanno dovuto fare la rivoluzione per rovesciare questo mondo e tornare al neopaganesimo che è peggio di quello di prima perché è peggio perché c'è anche la responsabilità di aver messo sotto i piedi duemila anni di cristianesimo su questo Nietzsche è stato profeta purtroppo Nietzsche la causa della decadenza dell'Europa è la prevalenza dell'Apollineo impersonato da Socrate e proseguito da Cristo sul Dionisiaco impersonato dagli epicurei dai culti dionisiaci dalle orge dai baccanali e chi è il superuomo? il superuomo è quello che ha il coraggio di scrollarsi di dosso sta grande cretinata coartante limitante di virtù di Socrate o di sacrifici cristiani e io mi gusto la vita terrena mi vivo l'uomo della terra questo è il superuomo ma questo è oggi oggi è ordinare amministrazione negli scritti di Maria Valtorta dice questi non sono i superuomini questi sono i superdemoni certo che sono i superdemoni ma ci stanno ci sta qualcuno che è capace di dire di no a questa roba qua non a chiacchiere pagando in prima persona esponendosi mettendoci la faccia avete visto Maria Di Magdala che attributi avete visto come ha reagito a Calvario è stata zitta zitta a un certo punto si è girata si è tolta al velo dice che è che stai a dire che voi lo sapete che c'è una banda di demoni dietro ah sfrontata parli così è un sacerdote certo che te parlo così e vergognati io sono la figlia di Teofilo per la cronaca vuoi andate a lamentare va a lamentare con Ponzio Pirato ma io sono la figlia di Teofilo problemi l'amore è luce e voce anche contro le tenebre della negazione e il silenzio della morte dici io credo e continua tu sei forte c'è Giovanni la guarda ammirata e mormona tu sei forte sempre lo fui tanto che seppi sfidare il mondo ed ero senza Dio allora ora con lui senti sento di sapere sfidare anche l'inferno vediamo un po' c'è qualcuno che alza la mano che sfida l'inferno perché adesso qui bisogna sfidare l'inferno non è che siamo pazzi furiosi superbi e temerari perché col diavolo non si scherza perché il diavolo è cattivo ma capite il senso no? sei capace a sfidarlo all'inferno? sei capace a prendere insulti e ceffoni addosso? anche non come dire non materiali ma come dire simbolici no? il ceffone lo schiaffo se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra che ti disprezza che ti dice ma me fai schifo sapete che lo schiaffeggiare era proprio il segno del disprezzo era la provocazione se uno ti dava uno schiaffo immediatamente doveva subito partire il duello perché non ti puoi far dare uno schiaffo senza reagire perché tu ti ancora sta dicendo non posso dire mi fai schifo ecco ok siamo capaci di sfidare l'inferno avendo Dio con noi sapendo che stiamo dalla parte della verità siamo capaci e questa è la grande è la grande è la grande e attenzione tu che sei buono dovresti essere più forte di me e lo sarebbe diventato ma tu sei innocente per questo ti amava tanto quindi ci sono vedete chi c'era sotto la croce eccettuati la Madonna c'era San Giovanni e Maria di Magda cioè il Giglio quindi quello che è stato innocente l'unico degli Apostoli non può essere un caso è la grande peccatrice ma la grande peccatrice convertita 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 capite perché l'unico dell'apocalisse c'è scritto tu non sei né caldo né freddo tu sei tiepido io tiepido li vomito dalla mia bocca non so che farcene non possiamo essere grigi sapete a me scusate se sapete qua è proprio l'immagine del del ministro modernista il vestito grigio il clergyman grigio no grigio cioè non sei né bianco né nero grigio è proprio l'atteggiamento oggi è abbastanza come dire di ragazzi dico cioè per carità ribadisco il dogma non si tocca però lo dico non lo dico perché dopo quello si offende dopo dopo quell'altro ci resta male dopo dopo c'è il dialogo ecumenico dopo c'è il dialogo interreligioso dopo c'è il dialogo col mondo c'è il dialogo con quell'altro e tu non dici più niente però da un punto di vista teorico ah sì sì però il dogma è questo ma se non lo dici mai che ci abbiamo paura io noto ho l'impressione ci abbiamo paura il mondo ci giudica ma c'è noi giudichiamo il mondo certo che ti giudica il mondo perché noi non siamo del mondo certo che ti viano per matto ti dirò qua se ti prendono per sabio se foste del mondo detto ci sono i vangeli del mondo amerebbe ciò che è suo ma voi non siete del mondo come io non sono del mondo io vi ho scelti dal mondo e vi ho inviato nel mondo ma voi non siete del mondo non siete come gli altri e non dovete mostrarvi come gli altri non possiamo conformarci allo spirito del mondo non possiamo non dobbiamo e se siamo soli noi meglio meglio medaglie più grandi in cielo senza avere paura vabbè penso che possiamo mettere punto grazie a Maria di Magdala per la sua grande testimonianza e speriamo che possiamo che ci venga un pochino di voglia di seguirne le orme coraggiose niente conigli e niente vili leoni e coraggiosi Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga laudentur Iesus e Maria grazie a tutti